salve a tutti ragazzi come avete intuito dalla location che non è la solita vedremo come collegare i nostri smartphone ai sistemi multimediali della nostra auto in questo specifico caso a sistema multimediale Peugeot ma il principio rimane uguale un po per tutte le auto quindi la guida vale un po per tutti in questo video specifico vedremo come collegare i device apple quindi con sistema ios nel prossimo video vedremo come collegare il cellulare android con android auto e system link ma oggi guardiamo più nel dettaglio come collegare un device apple con apple carplay alla nostra auto o con un streaming audio se la nostra auto sopporta lo streaming audio quindi adesso guardiamo da vicino come dobbiamo fare allora ragazzi per quanto riguarda lo streaming audio è una funzione molto semplice e con poche funzioni però pratica se noi clicchiamo qua sopra su modalità vedete che ci dà la connessione bluetooth se il nostro telefono ovviamente già stato associato al bluetooth della nostra auto quindi clicchiamo bluetooth ok vedete che ci dice cosa stiamo ascoltando nel nostro iphone quindi da qua però non possiamo scegliere un altro album possiamo solo cambiare canzone perché lui riprodurrà l'album che stavamo ascoltando nel nostro iphone quindi se io qua faccio play ovviamente vedete che lui riproduce quello che stavamo ascoltando nell'iphone ovviamente dal volante possiamo ovviamente abbassare alzare la musica o possiamo cambiare la canzone se io giro con la ruotellina qua sul volante vedete che lui è passato alla canzone numero due questo però è il massimo che possiamo fare con la connessione streaming audio però è comoda perché noi possiamo avere anche l'iphone in tasca o nella borsa o dove vogliamo e la connessione è dopo pochi secondi è istantanea con la macchina quindi basta schiacciare qua nella modalità audio selezionare bluetooth e possiamo ascoltare direttamente quello che stavamo ascoltando nel nostro smartphone e da qua dalla rotellina del volante cambiare la canzone questo però è tutto quello che possiamo fare con lo streaming audio è pratico ma è molto limitato nelle sue funzioni invece quello che veramente funziona bene con l'iphone è apple carplay adesso andiamo a vedere da vicino come collegare il nostro device apple con apple carplay e guardiamo insieme tutte le sue funzioni ok ragazzi per prima cosa dobbiamo entrare in impostazioni carplay ok vedete che qua lui fa la ricerca dell'auto disponibili perché se la nostra auto supporta apple carplay in modalità wireless non c'è bisogno di collegare il cavetto altrimenti come nel mio caso bisogna avere il cavetto collegato per associare e per poi utilizzare apple carplay nel nostro dispositivo quindi vado a collegare il cavetto e lui subito mi dice se ha consentito a voler associare il mio iphone a questo dispositivo ok faccio consenti qua primo apple carplay ecco adesso il dispositivo associato quindi questa procedura ovviamente d'ora in poi non me la chiederà più adesso che il dispositivo è associato ed è connesso come apple carplay possiamo andare a guardare tutte le funzioni che ci fornisce apple carplay ovviamente qua abbiamo il pulsante che sarebbe come il pulsante home del nostro iphone quindi se noi lo premiamo andiamo alla home del nostro apple carplay perché lui avrebbe non riproduce completamente tutte le applicazioni che abbiamo ma solo quelle che sono idonee a apple carplay ok apple decide che sono con una sicurezza tale da non disturbarci nella guida quindi abbiamo ovviamente la riproduzione della musica abbiamo il podcast l'audio libri l'applicazione di radio djs uno ce l'ha installata messaggi telefono mappe perché dopo andremo a vedere anche mappe come si utilizza nel dispositivo che abbiamo sulla nostra autovettura qua possiamo cambiare pagina c'è spotify tunnel radio amazon music o whatsapp quindi queste sono le applicazioni che io ho installato che sono compatibili con apple carplay adesso torniamo alla home page una cosa bella di apple carplay ovviamente oltre all'home page che vediamo quindi riprodurre totalmente il nostro telefono un'altra utilità è avere siri nel microfono del nostro volante perché siri è vero ce l'abbiamo anche nello streaming audio però nello streaming audio è un po più riduttivo nel senso che per farlo partire bisogna prendere in mano il telefono perché per farlo partire bisogna prendere in mano telefono quindi di lì e siri e lui parte ovviamente la risposta di siri e tutto è nell'audio della macchina in quel caso però per farlo partire e quindi attivarlo bisogna prendere in mano il telefono mentre con apple carplay basta parlare funziona con il microfono della nostra autovettura proviamo a dirgli e i siri vedete vedete che lui è partito quindi io posso dirgli riproduci musica va bene vedete che siri ha fatto partire la musica come nel nostro iphone però la cosa bella che noi non dobbiamo proprio toccarlo l'iphone possiamo dirgli ei siri metti canzone successiva passò l'elemento successivo quindi avete visto che è passata la canzone successiva cioè semplicemente parlando come lo facciamo con il nostro iphone ragazzi devo sempre abbassare l'audio delle canzoni perché sennò prendo il copyright mi spiace ma non posso farvi ascoltare le canzoni allora un'altra cosa che funziona benissimo ed è comodissimo ovviamente per chi non ha già un navigatore preinstallato nella propria autovettura e mappe perché mappe se noi lo andiamo aprire vedete lo vedete a tutto display comodissimo funziona benissimo non è a livello di google map però si difende bene soprattutto averlo a tutto schermo e quindi non dover attaccare il telefono o meno comodissimo quindi avremo tutte le nostre informazioni nell'audio della nostra vettura e via dicendo un'altra cosa molto interessante sono i messaggi nel senso uno perché possiamo dettare a siri i messaggi sia per whatsapp che non e ovviamente anche farceli leggere perché quando ci arriverà un messaggio ci uscirà la notifica qua in alto come succede nel nostro iphone quindi possiamo leggere la notifica se ci esce o leggerci il messaggio se no farcelo leggere da siri quindi io posso dirgli a siri ehi siri scrivi il messaggio a erica quale erica erica o mamma erica erica che cosa vuoi scrivere tutto bene il messaggio è pronto per essere inviato a erica il testo dice tutto bene vuoi inviarlo no non inviare ok aspetto a inviarlo fammi sapere quando sei pronto a procedere ok quindi avete visto l'utilità di siri in apple carplay e un'altra cosa utilissima ovviamente è leggere i messaggi quando ci apparirà la notifica qua del messaggio come quello che ci esce nel nostro iphone possiamo farcelo leggere da siri la stessa cosa vale per le telefonate o via dicendo possiamo a dirgli a siri di chiamare una determinata persona un nostro contatto ovviamente da qua possiamo cambiare l'album possiamo dirglielo a siri se non vogliamo farlo noi di cambiare l'album quindi vedete questa è la schermata bene o male simile a quella che abbiamo nel nostro iphone adesso andiamo indietro mettiamo gli album vedete qua abbiamo tutti gli album che abbiamo nel nostro iphone selezioniamo e così via qua abbiamo l'orario la connessione wifi perché in questo momento sono vicino a casa quindi ho una connessione wifi e questa la connessione del telefono quindi ragazzi abbiamo visto i due sistemi di utilizzo con l'iphone cioè lo streaming audio però con poche funzioni ma pratico e veloce se dobbiamo fare un tragitto breve comunque ha delle funzioni si può utilizzare siri però bisogna farlo attivare dal telefono possiamo comunque ascoltare la musica ma quella che già stavamo ascoltando il nostro iphone comunque anche se fosse stato spotify si sarebbe riprodotto quindi qualsiasi cosa audio stavamo ascoltando nel nostro iphone che è stato interrotto perché non abbiamo messo in pausa quindi non lo stavamo più ascoltando se lo facciamo partire dalla nostra autovettura parte da quel punto e da quella canzone ovviamente possiamo solo come avete visto cambiare la canzone con la rotellina sul volante ma non possiamo cambiare l'album o fare chissà che altro però invece dopo abbiamo visto tutte le funzioni di apple carplay che ragazzi funziona benissimo è ottimo ovviamente apple l'ha molto limitato dal punto di vista delle applicazioni non ci fa mettere applicazioni che possono rendere pericolosa la guida e la nostra sicurezza quindi sono solo applicazioni utili che ci servono quando guidiamo o applicazioni che quando guidiamo li possiamo comandare vocalmente o col touch quindi tutto quello che potrebbe essere guardare foto o guardare video o altre applicazioni che potrebbero distrarci alla guida apple ovviamente non le fa inserire nell'apple carplay mentre andremo a vedere con android che essendo un mondo più aperto è un mondo dove tra virgolette tutto è ammesso lì si riesce a ottenere delle cose in più ovviamente a discapito della nostra sicurezza comunque nel prossimo video andremo a vedere android auto e connessione system link ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao